Le coperture ci sono, assicura Di Maio che torna a difendere il reddito di cittadinanza, misura espansiva che servirà a rilanciare l'economia, scrive il leader pentastellato che non risparmia frecciatina all'ex Cavaliere. Ci fa piacere che anche Berlusconi l'abbia scoperto. Prima ci hanno votato contro per cinque anni in Parlamento e poi in campagna elettorale cominciano a parlare del reddito di dignità, che è un modo gentile per dire che ci hanno copiato il reddito di cittadinanza ma non vogliono ammetterlo.